Un tema delicato e quanto mai attuale per la prima uscita ufficiale dell'Associazione Comprensoriale Noi per il Territorio. Emergenza rifiuti, una parola ormai sulla bocca di tutti, che alle porte dell'estate creano un poche preoccupazioni in amministratori locali, cittadini e turisti. Le strade di città di mare colme di rifiuti non sono la migliore cartolina da presentare agli ospiti. Lo sanno bene i sindaci che in questi anni hanno vissuto alla giornata tra caimano che non potevano scaricare, e di scariche che chiudevano dalla sera alla mattina, problemi nei rapporti con le società di gestione del servizio, progetti di differenziata porta a porta e isole ecologiche rimasti sulla carta. Un problema dibattuto a colpi di rimpalli di responsabilità dalla politica fino al ritorno della competenza in materia alla Regione dopo 16 anni di commissariamento. Oggi alle 17.30 l'Hotel Santa Caterina si troveranno di fronte tecnici del settore e politici di tutti i livelli istituzionali. Si analizzeranno le esperienze virtuose di altri stati e di altre regioni italiane, ma anche di comuni calabresi come Marzi, che ha trovato nella lombricoltura una soluzione ottimale allo smaltimento dell'umido trasformandolo in humus, o come il comune di Saracena al top dei municipi calabresi nella raccolta differenziata. Esempi di come sia possibile affronteggiare un problema, prima che politico, di tipo culturale. Non vogliamo cercare un colpevole né fare processi a nessuno, dicono dall'Associazione. Vogliamo solo che la Calabria e l'Alto Tirreno-Cosentino trovino una soluzione che non solo permetta di fronteggiare l'emergenza in vista dell'estate, ma che sia in grado di creare un nuovo modello, dove ognuno però deve dare il proprio contributo. All'incontro hanno confermato la loro presenza l'europarlamentare Mario Pirillo, i deputati Ernesto Magorno del PD e Ferdinando Aiello, di Sinistra Ecologia e Libertà, Gerardo Mario Oliverio, presidente della provincia di Cosenza, il capogruppo PDL alla Regione Calabria Gianpaolo Chiappetta, Gianluca Gallo, presidente della commissione ambiente alla Regione, l'assessore all'ambiente della provincia di Cosenza Giuseppe Aieta e Francesco Pugliano, assessore all'ambiente della Regione Calabria.